Abbiamo preparato una partita e ne abbiamo fatta un'altra, come spesso succede da buona vittoria, dal punto di vista dell'intensità, delle giocate, dell'attenzione, però adesso come sempre quando si gestisce una squadra è il responsabile del tecnico, quindi è giusto che ognuno di noi, io per primo mi debba assumere le responsabilità, non si può sempre dire quello che non funziona, bisogna anche trovare i rimedi, abbiamo, ho sempre detto che in questo campionato, in questo girone si può vincere e si può perdere con tutti, ma bisogna vedere però come si vince e come si perde, e questo è un aspetto importante e oggi abbiamo preso dei gol bruttissimi, abbiamo subito la vehemenza della Virtus, dal decimo forse del primo tempo al trentesimo, e questo ci è costato la partita come è successo anche altre volte, noi non ce lo possiamo permettere, indipendentemente poi dall'aspetto tecnico-tattico non ce lo possiamo permettere neanche dal punto di vista del gioco e dal punto di vista dell'atteggiamento, però è così, ormai sappiamo che c'è da soffrire fino alla fine e dobbiamo tenere botta e sappiamo che adesso abbiamo due scontri diretti fuori e dobbiamo andare a fare risultato fuori casa e purtroppo siamo, io per primo siamo sciocchi perché non sfruttiamo queste occasioni, potremmo aver già chiuso questo discorso, invece siamo in piena corsa, ma io credo che sia un aspetto mentale, poi credo che sì, non c'è una grande attitudine a giocare partite toste, ma parlo a livello genetico, non c'è una grande attitudine a giocare sulle seconde palle, a fare una partita maschia e questo è un po' quello che è la nostra squadra, ma noi siamo consapevoli di questo, credo che io quando parlo di consapevolezza vorrei invitare tutti, me per prima, a stare con i piedi per terra e capire che le partite vanno giocate oltre da un punto di vista tecnodattico anche da un punto di vista agonistico e questo noi delle volte veniamo meno. Non mi aspettavo una partita così oggi da un punto di vista caratteriale, quindi sono deluso, ma deluso con me stesso, perché chi fa questo mestiere deve prevedere anche queste cose. Grazie.